L'utizia straordinaria, Black Moon e Royal Hotel presentano una domenica rossosanica con gli attori del teatro della cadena. Sono certa che faremmo di tutto per eliminarmi, credo di aver bisogno del vostro aiuto. Io so chi era sostenibile, venite a scoprire il movimento e colpevo e vincerete un favoloso weekend in Sicilia. Abbiamo visto che ci stava finando. Siamo dell'FBI, ma non siamo in servizio. Ma dove è finito? Scusa, è andato a fermare. Pronto? Sì, sono un collega, dottor Wilson. Cosa posso essere l'aiuto? Pronto? Pronto? È caduta la linea. Se è importante, richiamerà. Scusate, signori, un momento di attenzione, prego. Ma che succede? È stato compiuto nel ferrato delitto in uno dei bagni. State calmi, abbiamo chiamato la polizia. Tranquilli, sono il dottor Valenti, direttore dei servizi segreti italiani. Avevo l'incarico di proteggere la dottoressa Moncuso. Ma è evidente, non ci sono riuscini. Via Stagliamo, a Domenica Rosso Sangue. Oterrone, via di San Giuliano, 336, a Catania. Info e prenotazioni 095 25 03 347.